Come poter aiutare le donne a evitare che si facciano tormentare dagli uomini sbagliati? Questo è un grave problema molto attuale e lo dico perché in una nota serie televisiva interpreto un personaggio che ha proprio di questo problema con la moglie che non riesce a mantenere la rabbia pur essendo lui una persona di gran cuore. Parlo del mio personaggio, è chiaro, però ci sono casi reali nella vita che purtroppo vengono sempre sulle prime pagine dei giornali queste notizie che un po' ci spaventano di queste donne che subiscono la violenza dei propri uomini. Questa è una piaga e la piaga più grande è quella delle donne che non riescono a trovare il coraggio di denunciare. Allora facciamo una cosa, facciamo una cosa, sono ora lì di fronte a noi no? Amiche, amiche voi già in quanto donne, già in quanto esseri superiori, proprio naturalmente, avete proprio tante cose in più rispetto a noi, innanzitutto pochi pacienze perché ci dovete sempre trattare, no come ci trattate da grandi mamme quali siete. Io vi esorto a trovare sempre il coraggio laddove c'è un piccolo campanello d'allarme che un po' vi fa spavento. Andate a denunciare, parlatene con amiche, parlatene con le persone a voi vicino. Cercate, cercate aiuto. Cercate Gennaro, cercate me, cercate tutti, cercate aiuto e a loro che gli diciamo? No, io guarda, perché probabilmente loro sono le persone che hanno bisogno più di aiuto e quindi a chi è vittima di determinate cose aiutiamo queste persone chiedendo noi in prima persona aiuto. Se voi chiedete aiuto ad una persona che tiene a cuore la vostra vita, vedete che poi si salva il tutto, si evita il tutto e si corre ai ripari prima che si sfiora la tragedia come spesso accade. Una torre per le donne c'è, ci sarà. Gennaro è uno di noi, non è l'unico. A presto, grazie. Allora dobbiamo maltrattarle d'amore, noi le dobbiamo riempire di schiaffi fatti di cuore, schiaffi d'amore, carezze, carezze. Le donne vanno trattate per quello che sono, quindi esseri superiori e non aggiungo altro.